In questi giorni ho visto su Netflix una serie o meglio un docufilm che si chiama American Meme, vi metto il nome ovviamente nella descrizione del video, mi è stato consigliato dal mio socio Skande al quale è stato consigliato da Giulio Xaith, vi ringrazio e saluto entrambi. Vi consiglio di vederlo se avete Netflix perché secondo me è un po' come scoprire il vaso di Pandora, vi spiego che cosa succede, vengono divisezionate le vite di tre personaggi, una è Paris Hilton che conosciamo tutti e ci sono altri due, chiamiamoli influencer di Instagrammer americani che fanno cose incredibili veramente, per cose incredibili, a parte Paris Hilton che conosciamo tutti, per cose incredibili intendo che per diventare famosi, per essere noti, per avere popolarità, per avere tante persone che ti seguono, fanno cose al limite della follia. Uno dei due è tal Kirill, di cui parla anche Obama, scusate Trump, in un suo momento, va in giro per locali ad ubriacarsi tutte le sere, tutte le sere è in un locale, tutte le sere si sbronza a merda, come si dice, dopodiché sta in giro fino a mattina, la mattina prende un aereo, una macchina eccetera, si sposta in un'altra città e fa la stessa identica cosa, le sue feste sono a base di champagne buttato sulle donne, cose di questo tipo. Ovviamente a primo acchitto potrebbe dire e pensare, che figata di vita, beh è una figata, non lo è per nulla, non lo è per nulla perché questa creatura soffre terribilmente di questa vita, provate a immaginare ad essere obbligati ad ubriacarvi a bestie a tutte le sere per tutta la vita, questo per avere popolarità. Dall'altra parte c'è un tizio, ripeto lasciamo perdere Paris Hilton, c'è un tizio che non fa altro che fare cose al limite dell'incredibile, che so, buttarsi su una montagna di nachos, cospargersi di salsa barbecue e fare il bagno in una piscina piena di ketchup, cose di questo tipo. Perché? Perché? Per essere popolari. Allora, la prima cosa che a noi viene in mente è disgustoso, è assolutamente disgustoso, cioè il pensiero che qualcuno per essere popolare faccia cose al limite di questo tipo, perché poi la popolarità cosa fa, porta soldi eccetera, mi fa schifo, mi fa schifo, ma pensiamoci bene, seriamente un attimo, siamo stati abituati fin da piccoli, fin da bambini, tutti, da generazioni a generazioni a generazioni, al successo, siamo stati abituati all'idea del successo e abbiamo sempre messo insieme due cose, il successo significa soldi e popolarità. Per raggiungere soldi e popolarità nella vita normale si è sempre dovuto fare un grande lavoro, ci si è sempre dovuto fare il culo, perché? Perché non si arriva a soldi e successo, pensiamo per esempio ai calciatori così, ci si arriva con attitudine, con lavoro, con costanza. Poi arriva un bel giorno un dispositivo che ci permette di essere popolari senza fare tutto questo, questo dispositivo si chiama smartphone. Basta fare delle cose assurde, al limite, fuori di testa, la gente comincia a seguirti, la gente comincia a leggerti, quindi tu cosa fai? Aumenti la tua popolarità, vieni chiamato nei posti, alle feste, fai l'influencer, tra virgolette, e diventi ricco. Vedete come da un momento all'altro lo strumento cambia il modo in cui noi possiamo vivere, il modo in cui viene addirittura percepita la popolarità e il successo. Ma io credo una cosa, non è che questi dispositivi ci abbiano cambiato, noi siamo sempre stati così. Questi dispositivi ci hanno dato la possibilità di fare qualcosa che da un certo punto di vista siamo predisposti geneticamente e culturalmente a fare. Abbiamo sempre inseguito il successo abbinando popolarità e soldi. Al momento abbiamo la possibilità di avere successo, che non sto dicendo che sia la giusta forma di successo, con popolarità e soldi senza lavoro, solo facendo cose al limite della follia. Quindi di nuovo noi diamo la colpa e la responsabilità a questi strumenti di qualcosa che accade dicendo cose del tipo, ah ma i social ci hanno rovinato, i social ci hanno distrutto, mentre invece siamo noi ad essere così. Gli strumenti ci hanno solo portato a fare quello che in teoria siamo progettati per fare. Ovvio a questo bisogna dare secondo me un freno, un limite, ma non è togliendo gli smartphone che si dà un freno e un limite. Questo freno e limite secondo me lo si dà culturalmente. Si deve capire che il successo non è soldi e fama, perché se guardate questo docufilm che vi consiglio seriamente di guardare, quello che passa alla fine è un solo messaggio, non sono felici. La felicità è il fine e non dipende dal successo come lo consideriamo noi. Queste persone non sono felici. La felicità è tutta un'altra cosa, è un obiettivo, è realizzazione attraverso il lavoro, è un equilibrio, è una routine funzionale a queste tre variabili, ma non è certamente successo e soldi, fine a se stessi. I mezzi non hanno colpa, siamo noi che siamo fatti così. Rock'n'roll 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 Rock'n'roll